Con Umberto Galimberti parliamo del disagio giovanile, acuito anche dalla situazione legata al Covid degli ultimi anni. Ma non credo che il Covid abbia determinato chissà quali trasformazioni, perché quando i ragazzi si lamentavano di essere isolati, di non avere il distanziamento sociale, eccetera, io li avrei invitati, come peraltro l'ho detto loro, provate a confrontarvi con i vostri coetani che magari partono dall'Afghanistan, attraverso i Balcani, arrivano in Italia, vanno in Francia, nel tentativo di salvarci una vita. E voi per un distanziamento sociale fate tutte queste scene? Allora, insomma, vorrei che l'orizzonte loro non fosse come vivevano prima e poi come sono vissuti in tempo di Covid, ma si allargasse a tutto il genere di giovani che ci sono in questo mondo, che non sono così facilitati come loro. Qual è la problematica legata ai giovani? Perché c'è una situazione comunque di difficoltà, di disagio giovanile? Sì, il disagio è determinato dal fatto che non hanno un futuro, perché per loro il futuro, a differenza di quello che era per me, per me era una promessa, per loro invece è imprevedibile. Siccome noi non andiamo avanti nella vita perché qualcuno ci spinge, ma perché qualcosa ci attrae, se il futuro non attrae perché non sta promettendo loro niente, è chiaro che si demotivano. E per effetto di questa demotivazione si deprimono anche e li capisco. Quindi la sofferenza non è tanto il distanziamento sociale o cose del genere, è proprio la mancanza di prospettive. Oggi i migliori se ne vanno e a noi restano quelli che invece non si impegnano tutto sommato. No, il problema è proprio questo, perché la scuola poi non è più meritocratica, perché promuove tutti e la mancanza di meritocrazia deprime quelli bravi, perché sanno benissimo che sono promossi anche quelli che non sono bravi e questa situazione non è assolutamente tollerabile oltre una certa misura. Dopodiché i più bravi se ne vanno e quelli che restano si rassegnano, impigriscono, si demotivano e in molti casi si suicidano. Che cosa si può fare? Se si può fare qualcosa? Non mi deve chiedere mai una parola di speranza, perché la speranza non appartiene al mio comorario, come sono d'accordo con Pasolini che l'aveva tolto, perché la speranza è una parola un po' passiva. Speriamo, perché c'è l'idea che il futuro porti rimedio ai problemi del presente. Non è vero, il rimedio è semplicemente nell'attivarsi nel presente e non nel futuro per crearsi delle prospettive e delle possibilità, ma nel presente. Il futuro è quello che noi creiamo, non è una panacea che risolve i problemi del presente. Qual è la funzione degli educatori, della scuola e anche dei genitori? I genitori dovrebbero parlare molto con i loro figli, perché le loro parole sono buone fino a 12 anni e poi dopo non funzionano più, le parole diventano parole vane. Ma se hanno parlato tanto prima i ragazzi continueranno a parlare anche dopo. Per quanto riguarda la scuola, vado predicando che la scuola compie un'operazione di educazione, che portare i ragazzi dalle pulsioni alla risonanza emotiva, che consiste nell'avvertire immediatamente la differenza tra il bene e il male, tra scorteggiare una ragazza o stuprarla, cosa che non sempre viene avvertita. E poi insegnare i sentimenti, per questo abbiamo la letteratura. Invece noi riempiamo la scuola di computer, invece che di la letteratura. C'era Clifford Stoll che diceva che il computer va bene, li abbiamo inventati noi negli anni 60 e quindi non ne parlo male, però nella scuola mai. E all'intervistatore che diceva che va bene, però se il professore non è tanto bravo, il computer potrebbe offrire delle possibilità, delle informazioni che non dà il professore. E Clifford Stoll risponde, no, i professori non bravi si licenziano nella scuola e si assumono quelli bravi, punto a capo. La tecnica ha preso il sopravvento? Certamente, è diventato il soggetto della storia, non è più uno strumento nelle mani dell'uomo. Semmai l'uomo diventare un funzionario di apparati tecnici. E questo a partire dalla seconda metà del Novecento. Eidegger dice che tutto funziona, questo è l'inquietante, che tutto funziona e il funzionamento induce ad un ulteriore funzionare. Poi l'intervistatore di Der Spiegel dice io non so se l'è stato impressionato da quando l'uomo è andato sulla Luna, io lo sono stato molto perché l'uomo oggi non vive più sulla Terra e lo sradicamento non è determinato dalla bomba atomica ma dalla tecnica, perché oggi è nella tecnica e non nella Terra che noi viviamo.